Predire il futuro Predire il futuro, ma non ci occuperemo di chi cerca l'oroscopo la mattina per sapere se avrà una giornata fortunata, se incontrerà l'amore della sua vita e neanche se la notte sognerà il vecchio zio che gli predisce i numeri all'otto. Predire il futuro in questa occasione è un'altra cosa, cioè quella ricerca dell'informazione per poter controllare la realtà e per poterla dominare, insomma qualcosa che serve al potere. E la storia di oggi, che è una storia che parla di un presente molto lanciato sul futuro, di un futuribile già in mezzo a noi, parte da un esempio molto lontano. Come spesso ci accade a mappe, spunti per comprendere dove siamo, cerchiamo di portare sulla realtà da oggi uno sguardo che proviene anche da altrove, perché siamo convinti che attraverso la delocalizzazione dello sguardo sia possibile comprendere meglio quello che accade. E partiamo da una vicenda apparentemente molto lontana da noi, che tocca un faraone, il faraone Nektanebo, che adesso vediamo in immagine e che è stato l'ultimo dei faraoni egizi, perché poi c'è stata la conquista di Alessandro Magno dell'Egitto. E Nektanebo era conosciuto come un grande mago, come spesso accade nella tradizione egizia, ma quello che ci interessa a noi è capire qual è il tipo di magia. Nektanebo era in grado di manovrare la realtà attraverso una sua simulazione, aveva una sorta di pannello di controllo, di interfaccia della realtà. Ad esempio, se l'Egitto era attaccato da una flotta di navi straniere e lui mandava la sua flotta egizia contro la prima, riproduceva nella sua reggia, su un bacile colmo d'acqua, queste navi in formato miniaturizzato, come di cera, in maniera tale che lui poteva manovrare questi modellini di nave e far decidere in questo modo le sorti della battaglia. Quindi la capacità di influenzare il mondo esterno attraverso il controllo delle informazioni su di esso. Questo è il concetto fondamentale di questo grande mago. Quando lui capisce che la sorte è ormai terminata per l'Egitto, narra la leggenda, fugge in Macedonia e qui incontra Olimpia, che è la mamma di Alessandro Magno, qui rappresentata in questa statua e che, secondo la leggenda, sarebbe diventata la madre di Alessandro Magno insieme a Nektanebo. In tal modo non si è spezzato il vincolo del potere e i faraoni hanno potuto continuare la loro storia attraverso lo stesso Alessandro Magno. Una storia molto antica, quindi, potremmo chiederci cosa a che fare con la realtà di oggi. Bene, è l'idea di avere un controllo sulla realtà attraverso il potere. Oggi esistono sistemi che possono e promettono, e anche a pagamento consistente, la possibilità di predire il futuro, ma non per il singolo, come dicevo prima all'inizio, ma per le aziende, per i gruppi politici, per chi deve presentarsi alle elezioni, attraverso il controllo, l'utilizzo, la manipolazione degli infiniti dati che ciascuno di noi, per mille rivoli, fa fluire a questo immenso archivio continuamente in ristrutturazione che è il web. E vediamo un filmato di un'azienda che presenta a se stessa i suoi prodotti e che rappresenta, credo, in maniera molto chiara, quello che stiamo dicendo. Cioè ci si chiede come si può predire il futuro. Ecco, attraverso un insieme di ricerche mirate, attraverso i dati che sono presenti in rete e le tracce che ciascuno di noi lascia, attraverso il pagamento con il Bancomat, attraverso l'uso del telefono, attraverso le ricerche su internet, attraverso le foto che mette sul web e ci accorgiamo che sostanzialmente fa quello che faceva Nectanebo, manipola un insieme di dati per poter tramite esso controllare la realtà. E sono tematiche che sono molto vicine ai temi della privacy e dell'utilizzo di quello che si chiamano miniere di dati su internet. Sì, infatti la nuova norma che Google ha praticamente messo in giro di recente è che praticamente i dati che noi mettiamo su internet in qualunque servizio del motore di ricerca di Google, sia da Gmail, da YouTube, dalla mappe di Earth, Android, Chrome, Wallet, resteranno per sempre nel sistema e saranno condivise da tutti i servizi di Google. Ecco, il punto fondamentale è che scavare nei dati, il minatore di dati, come si dice, usa dei software particolari che vediamo anche in questo video che naturalmente sono molto utili a categorie di persone anche molto diverse fra di loro, alcune legali, altre un po' meno. Pensiamo ad esempio ai sistemi di intelligence, i servizi segrete, ma anche i pirati informatici oppure i sociologi, i predicatori, quelli che si chiamano i commessi viaggiatori del web. Tutti a caccia, ha scritto Gianni Riotta sulla stampa, di quello che è il prezioso metallo virtuale, di quello che è la pietra filosofale dei giorni nostri che sono in fondo le informazioni, quindi le nostre foto, gli affetti, gli email, quelle personali e quelle del lavoro, finora conservati nei computer che ciascuno ne ha usato, ma sempre di più in queste nuvole che rappresentano l'insieme dei dati che noi sempre più spesso depositiamo nel web, non sappiamo in realtà neppure bene dove fisicamente siano collocati, ma che rispondono a delle comodità certamente molto incredibili, ma ponendo al tempo stesso problemi non indifferenti di privacy e di sicurezza di questi dati. Il Volkenrat, che si occupa di antiterrorismo, fu molto stupito di scoprire che praticamente le tecniche che lui usava per combattere il terrorismo, le tecniche del minatore di dati venivano usate per analizzare i gusti dei suoi figli, ovvero per capire cosa loro gradissero e far pervenire ai loro computer pubblicità a loro gradite. Se noi pensiamo al software Picasa, questo è un software gratuito per le fotografie, che permette di... Picasa riconosce i volti delle persone nelle foto, risale al luogo e alla data dove sono state scattate, quindi permette di schedare chi c'era in quel posto e in quel momento. Questi sono strumenti utili sia per la polizia, ma anche per il marketing, per proseguire le loro indagini e capire che cosa ci piace e che cosa no. E' interessante vedere questo passaggio perché Volkenrat è stato il responsabile dell'antiterrorismo americano, pensiamoci un momento, subito dopo l'attacco alle Torri Gemelle. Quindi c'era una grande pressione dell'opinione pubblica, del potere politico, perché si riuscisse a estrarre tutte le informazioni possibili dalla rete per la sicurezza nazionale. In realtà queste stesse tecniche sono poi passate a cascata a situazioni molto più normali, diciamo così tra virgolette, meno radicalmente legate a questioni di grande politica internazionale, ma sono passate fondamentalmente ad alcuni filoni che sono il marketing, che sono la propaganda politica, che sono il proselitismo religioso, sono gli aspetti che in qualche misura hanno cercato di individuare quelle che sono le attese, i desideri, le impressioni delle persone per poter su di esse lavorare. E sappiamo su questo quanto le grandi aziende come Google ad esempio abbiano riflettuto sulla questione della privacy e anche recentemente, non dimentichiamolo, l'Unione Europea ha più volte messo sotto accusa le nuove norme che sotto una motivazione di semplificazione per l'utente, che non si può negare, hanno però portato anche a una riduzione della stessa privacy. Se noi pensiamo al professor Ghani che usa i metadati per la campagna di Obama, lui analizza i post di Facebook, i tweet di Twitter per fare dei mini sondaggi e capire cosa interessano, cosa interessa agli elettori e chi sono gli elettori e suggerisce in questo modo al presidente slogan idee e progetti che può usare nella sua campagna. E questa è una questione appunto che tocca ogni nostro passaggio in fondo, ogni nostra transazione, ogni visita pagina, ogni tempo di permanenza, ogni pubblicazione di foto e video. Pensiamo appunto ai software che sono in grado di riconoscere i volti delle persone nelle foto e quindi di abbinarle, di classificarle al luogo, al tempo e ricostruire una serie di indicazioni. Terminiamo ricordando ad esempio un caso molto significativo. In Francia un giornalista è riuscito a scrivere un'intera biografia di una persona senza mai averla incontrata e questa persona ha fatto denuncia successivamente al libro pubblicato, ha perso davanti al tribunale perché il giornalista ha avuto buon gioco nel dimostrare che tutti i dati da noi utilizzati non erano stati carpiti con l'inganno, ma semplicemente erano stati ricostruiti da Internet. Ovviamente ricostruiti in un modo molto particolare, per cui lo stesso soggetto interessato non era consapevole di aver distribuito così tante informazioni, ma allo stato attuale delle leggi del tutto legale. Su questo ad esempio abbiamo una diversa sensibilità in Europa, più attenta al tema della privacy rispetto a quella degli Stati Uniti, dove invece questo tema è molto meno sentito. Ma non dimentichiamo che molto spesso siamo noi stessi che autovioliamo la nostra privacy perché non stiamo attenti a certe scelte, a certi comportamenti. E questa è una tematica su cui ci piacerebbe magari anche continuare la nostra riflessione con voi sul nostro sito blog di Mappe e sul nostro sito tsdtv.it. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo la settimana prossima. Alla prossima, grazie. Grazie.